Tendere troppo oltre perché ci sembra importante avere sul tema della prima presentazione di quest'ultima sessione che è la città di Asterix di Carlotta e Mismetti Capua, anche il contributo di Deborah De Angelis che ha seguito gli aspetti un po' più tecnici e giuridici della pubblicazione in Creative Commons di quest'opera letteraria e siccome Deborah deve fuggire entro le 17 e 30 non possiamo ritardare più di tanto. Quindi senza attendere oltre lascio all'autrice di quest'opera La città di Asterix, Carlotta Mismetti Capua il racconto della genesi di questa creazione letteraria, non solo dal punto di vista di Creative Commons dal punto di vista in generale della nascita di quest'opera chiedendole di farci capire come mai per lei c'era una coerenza tra questo percorso che l'ha portata a creare questo lavoro e l'approccio delle licenze Creative Commons. Quindi lascio la parola a Carlotta. Bene, grazie, buonasera. Io per spiegarvi perché ho scelto Creative Commons e non essendo né una giurista né una tecnologica né un economista devo spiegarvi il percorso che invece ha a che fare con il mio mestiere io sono una giornalista di Roma e con una cosa di natura molto personale che ha un po' sconvolto la mia vita e che mi ha fatto fare tantissime cose che non avrei mai pensato di fare tra cui anche pubblicare un libro e in più pubblicarlo in Creative Commons. La mia storia comincia su un autobus a Roma, un giorno che pioveva dirotto dove incontro quattro ragazzini molto sorridenti, molto felici, con la felpa, faceva un gran freddo e mi sono messa a parlare con loro, parlavano inglese ed erano arrivati a Roma a piedi dall'Afghanistan. Mi aveva colpito molto che fossero arrivati, non tanto a piedi, che mi sembrava plausibile quanto che fossero felici perché mi sono resa conto che c'era qualcosa che non andava diciamo o loro non si rendevano conto di dove stavano o io non mi rendevo conto della loro storia e questi sono loro. Mi sono preso e io proprio riletto, ho visto come erano come erano, erano fatto ho mai visto qualcosa, non era altro, è ciò ma non vanno a vedere, non è giocato da anche sistema. E lì... La cosa è? C'è un sacco di numeri. La cosa è, pure, non è, non la passata. Ma però, come... perché non stai a dire che voi non avete nessuno di voi, non è nessuno di voi, non è nessuno di voi. Invece questi sono loro, si chiamano Ahmed e Wali e hanno 19 anni adesso. Quando ho cominciato a scrivere questa storia, ovviamente l'ho proposta al mio giornale, ho chiamato il mio direttore sotto la pioggia e gli ho detto direttore ho trovato quattro ragazzini, facciamo un pezzo e subito gli ho proposto di fare un pezzo non tanto su quello che poi invece lui mi ha consentito di fare, cioè arrivano dei minori stranieri a piedi dall'Afghanistan, scup, quanto su che cosa succedeva, il viaggio che loro hanno fatto che è durato 5.000 km da Kabul a qui a Roma e poi si è replicato da Roma a Roma perché hanno dovuto prendere i documenti, trovare un posto per dormire, tutte cose faticosissime dove gli sono successi un sacco di guai. Il mio direttore ha detto sì, abbiamo pubblicato una puntata e le altre puntate non le abbiamo pubblicate. Il giorno dopo ho ricevuto una mail su Facebook, per la prima volta in tanti anni che faccio la giornalista mi ha scritto un lettore, una lettrice, intanto non per lamentarsi, scrivono sempre per lamentarsi, dicendo mi chiamo Rosa Ubbiali, vivo a Roma, faccio l'infermiera, non ho tanti soldi ma ho la moto, se vuole domani le do una mano con i ragazzi. Era la prima volta che mi scriveva un lettore su Facebook, quindi saltando tutti i passaggi non ha pensato di scrivere al mio giornale o di telefonare, ma mi ha cercato in maniera personale e quando è stato chiaro che non avrei potuto raccontare a puntate come speravo la storia di questi ragazzi, e cioè cosa succede, arrivano a piedi e dopo dove dormono e quando hanno i documenti e quando vanno a scuola e che gli succede, ho deciso di farlo lì dove il mio lettore, Rosa Ubbiali, mi aveva cercata e trovata. E quindi ho aperto un gruppo su Facebook, è ancora attivo, che si chiama La Città di Asterix, qui vedete i ragazzi che parlano di Asterix perché questo titolo gliel'hanno dato loro, ed è un gruppo di narrazione, ovviamente non essendo più pagata e non lavorando per il giornale, lentamente, diciamo, non è che ho smesso di fare al giornalista o di essere io, ma ho dismesso tutte quelle regole che ognuno di noi ha, anche di distanza, oltre che di deontologia, ho fatto sicuramente delle cose fuori dalla deontologia e anche fuori dalla legge, ad esempio ho portato i ragazzi a casa, cosa che è illegale, diciamo, era un reato, ero coinvolta in tratta di minore portando i ragazzini a casa mia, e in realtà l'ho portato a casa mia perché la città di Roma ha 100 posti letto per i minorenni, 100 posti letto, quella sera tutti questi 100 posti letto erano occupati e a Roma arrivano 800.000 ragazzini come loro. La città di Asterix è nata così, nella gratuità, cioè io ho regalato il mio tempo a questa storia che mi sembrava bella, e ho regalato tante altre cose, ho coinvolto un sacco di gente, la mia famiglia, i miei amici, i miei vicini di casa, ho coinvolto un collega che stimo molto, che è il bigliettista di Repubblica, che ci ha regalato, si chiama Massimo Bucchi, e che ci ha regalato un po' di immagini, questa è una che è stata scartata, ma dai lettori del gruppo è stata scartata, è in effetti un po' drammatica, dietro la roccia a destra c'è un unico bambino che arriva in questo deserto che è la città di Roma, e che in effetti sul piano dei diritti anche lo è, è un deserto, ed è stato un regalo che mi ha fatto, quindi tutte le cose che sono successe io le ho fatte gratuitamente e ho chiesto alle persone di farle gratuitamente, Massimo questa è la storia, ti va di fare un disegno? Sì grazie, fine, lo postavo e dicevo questo disegno ce lo regala Massimo Bucchi, e anche una fotografa che si chiama Caterina Notte, ha voluto fare da delle foto che ha trovato lei su Facebook nel gruppo che è aperto, ha fatto i cartoni, ha trasformato una foto dei ragazzi in cartone animato, delle insegnanti mi hanno scritto dicendo abbiamo fatto i temi della terza media dalla città di Asterix, cioè sono successe un sacco di cose gratuite, ma anche che io non ho né previsto né sollecitato, tra queste non previste, non sollecitate, la città di Asterix ha preso il premio del giornalismo di Ischia nella categoria social media, e quel piccolo cortometraggio che ha fatto il mio vicino di casa, sempre nella gratuità, fa il filmmaker, ha vinto il Roma Fiction Fest. Diciamo che finché rimanevo nella rete con i miei soldi, i miei sforzi, i miei amici, le mie arrabbiature, il mio tempo, forse non mi sarei posta il problema delle licenze, e infatti non è che me l'ero tanto posto, finché una mia amica mi ha scritto dall'Equador su Facebook e mi ha detto è una storia molto bella, perché non la licenzi in Creative Commons? Io avevo la casa piena di coperte, giacconi, stereo, avevo tutto a cui pensare, tranne questa cosa, però mi è rimasto il nome e anche il fatto che lei mi avesse chattato dall'Equador per dirmelo, mi è rimasto in testa, e quando c'è stato il video e quando per la prima volta mi è stato offerto di far diventare questa cosa un libro, mi sono ricordata che esisteva questa cosa. In maniera molto spontanea posso rispondere alla domanda di Federico, e cioè poiché tutto era stato fatto nella gratuità e con dei significati magari anche miei, personali, e ritengo che le cose che si fanno per motivi personali, egoistici, sono le migliori che facciamo, mi sembrava giusto che ci fosse qualcosa di questa dimensione etica, anche nel modo in cui io licenziavo e quindi facevo entrare in un mondo per me molto lontano, nel senso che qui, diciamo, per quanto mi riguarda c'è tutto quello in cui io credo rispetto alla mia città, al mio agire, al mio essere cittadina, al mio fare la giornalista, nel momento in cui entro in un mondo commerciale trovavo molto poco di questi sentimenti che erano qua. Il fatto che Creative Commons avesse in sé qualcosa di questo mi ha rassicurato, mi ha fatto felice, e ho semplicemente contattato tramite il centro canadese che è qui, ecco, Federico Morando, che molto gentilmente, peraltro io non sono cittadina piemontese, ma romana, mi ha messo a disposizione i mezzi, cioè io avevo l'intenzione, ma non avrei potuto discutere col mio editore di niente, di quello di cui voi avete discusso tutto il pomeriggio, e cioè gli aspetti giuridici e quant'altro, e anche il mio editor, devo dire, non ne poteva discutere perché mi ha detto, Carlotta, non ho capito niente di quello che mi hai detto, e ti dico solo questo, che se firmi il contratto, così come il contratto è, te lo manda la mia segretaria, e tu fra dieci giorni hai i soldi dell'anticipo di questa storia, se invece questa roba di cui tu mi stai parlando passa per noi dall'ufficio centrale legale della Mondadori, e a quel punto io non so che dirti, possono passare mesi e può non farsi niente, e io che mi ero già presa tanti rischi, e ho detto va bene, aspettiamo, aspettiamo, abbiamo aspettato credo tre, quattro mesi, e l'ha spuntata l'avvocato De Angelis, che ora vi racconterà perché questo libro esce a febbraio per PM Mondadori in Creative Commons. Prima di passare velocissimamente la parola a Deborah De Angelis, che deve scappare, vorrei ringraziare di nuovo Carlotta, perché queste cose sono quelle che dovrebbero prendere la maggior parte del tempo della sessione sullo stato di Creative Commons in Italia, e oggi abbiamo parlato un po' tanto di aspetti giuridici, l'abbiamo fatto perché c'erano un po' di questioni tecniche incagliate da tempo, però la ragione per cui Creative Commons funziona è questa gente che ci si appassiona, e Carlotta ci ha dimostrato che cosa vuol dire davvero, ma adesso lascio la parola a Deborah. Ma io devo dire che mi sono subito appassionata al progetto quando Federico me ne ha parlato, e non è che abbia fatto molto, ho soltanto trasmesso all'ufficio legale della Mondadori quelli che erano stati gli intenti di Carlotta nel creare questo progetto, e quindi la volontà di condividerlo in rete, e di non mettere ostacoli alla divulgazione, alla conoscenza dello stesso. Ho dato delle indicazioni più tecniche ai colleghi dell'ufficio legale della Mondadori affinché capissero l'importanza di andare ad apportare delle modifiche al contratto standard che la Mondadori offre ai propri autori, richiedendo su specifica sollecitazione di Federico che ci rassicurassimo che nelle copie stampate del libro fosse ben evidente e pubblicata una pagina dove venivano sintetizzati i termini della licenza, attribution, non commercial, non opere derivate che Carlotta appunto aveva adottato per la sua opera. Io ho dato il suggerimento di applicare la licenza PLUS perché in qualche modo mi dava gioco nel far capire all'editore che nonostante l'opera fosse rilasciata per fini non commerciali in rete e quindi dalla stessa sono nati tanti progetti correlati, il fatto che l'autore sottoscrivesse un contratto editoriale seppur modificato secondo le nostre indicazioni dava comunque loro l'esclusività nella riproduzione per le stampe dell'opera e quindi l'adozione di una licenza PLUS poteva in qualche modo pubblicizzare questo contratto e quindi pubblicizzare grazie alla bandierina che viene appunto apportata nella licenza PLUS il logo della PM cioè della società editoriale appunto del gruppo Mondatori che aveva deciso di pubblicare l'opera e le argomentazioni apportate a sostegno dell'applicabilità e della compatibilità di una licenza Creative Commons con un'opera stampata sono state diverse innanzitutto la visibilità che l'opera già aveva prima ancora di diventare libro perché in internet e su Facebook il gruppo aveva comunque avuto un grande successo soprattutto per i valori e il contenuto che andava a narrare e quindi superare in qualche modo la paura dell'editore rassicurandolo nella possibilità di percepire dei compensi in quanto era l'unico titolare ad avere i diritti esclusivi per la riproduzione in stampa dell'opera stessa anche se nel contratto editoriale l'editore si è in qualche modo rassicurato la possibilità di pubblicare anche l'ebook del libro stesso e quindi altro nodo centrale è stato quello di lanciare un po' la figura del leader nel campo dell'editoria per le stampe perché anche se conoscevamo dei progetti editoriali già noti non tante case editoriali non tanti editori hanno ad oggi adottato le licenze creative commons o comunque hanno stampato libri già divulgati con licenza creative commons quindi un po' la figura di leader della Mondatori nel mercato e soprattutto il veicolo promozionale di divulgazione che le licenze creative commons potevano dare è sinonimo di un ritorno economico da parte dell'editore che pone sul mercato un'opera che comunque già è conosciuta già se ne parla e tutte queste diciamo rassicurazioni che sono avvenute nel corso di conversazioni telefoniche con l'ufficio della Mondatori hanno portato alla sottoscrizione del contratto modificato secondo le nostre indicazioni ove in una clausola è proprio previsto l'obbligo da parte dell'editore di stampare in una delle prime pagine del libro abbiamo consigliato quella dedicata al Colophon i termini della licenza creative commons adottata proprio perché volevamo avere la soddisfazione di vedere un libro pubblicato con i termini della licenza creative commons ora io speravo di potervela portare qui oggi le lungaggini anche perché Carlotta non ha ancora avuto le bozze da modificare che contestualmente avremo anche noi la pagina della licenza creative commons da visionare non è stato possibile portarla però credo che a giorni anche perché dovrebbe uscire a dicembre almeno era a febbraio hanno quindi prorogato però insomma vi terrò informati su questo ulteriore passo e spero insomma che questo sia l'inizio per l'apertura di un mercato sempre più ampio che voglia adottare questi sistemi di divulgazione ulteriore delle opere anche se in teoria la discussione è prevista alla fine per approfittare gli ultimi dieci minuti di Deborah magari se ci sono un paio di domande su questa parte possiamo raccogliarle già ora io ho una domanda che mi ha posato che forse è interessante per voi perché appunto non vengo dal mondo digitale in senso proprio non avevo mai fatto molto tranne essere un utente base e una giornalista che cerca le cose su Google vissuta tutta questa esperienza ovviamente a me mi è un po' cambiata la mente la testa proprio insomma anche ovviamente sul piano personale ma anche rispetto alla tecnologia e una delle possibilità che ora non ho ma spero che potrò avere come autrice è sui codici DRM cosa di cui non avrei saputo niente due anni fa anche ora pochissimo però nel contratto io non ho discusso questo e parlando con Mantellini che è un blogger eravamo invitati a un evento telecom tutte e due lui mi ha detto avresti potuto fare il social DRM e io che appunto non ne sapevo niente ho detto ah sì certo certo il social DRM e dopo mi sono interrogata ma io da autrice ce l'avevo questo diritto e non l'ho usato o non ce l'ho ancora o comunque già ho chiesto troppo ecco forse ora uno che scrive comincia Mantellini già sì io appresso a lui può darsi che fra 5 anni 10 anni così come nella musica anche chi scrive si farà tutte queste domande e pretenderà molte cose ma io credo che questa possibilità sia ancora aperta perché non c'è stata nel contratto editoriale una clausola specifica sull'ebook è stata soltanto diciamo una riserva da parte dell'editore di poter pubblicare quindi le modalità sono ancora da discutere è ovvio che la proposta può sempre essere fatta nel senso che applicazione di un social DRM continuerebbe in qualche modo a portare avanti la filosofia per la quale si è stampato con licenza creative comm è un se non ho capito male lo spiego io che non ne so niente cioè mi consente vi consente a quelli a cui che si comprano il libro di regalarlo credo in tre copie o in quattro copie è una misura di protezione come se tu lo presti ad un amico però c'è un bookmark se non ho capito male delle persone cioè bisogna qualificare cos'è questo social DRM a livello tecnologico io vi ponevo solo diciamo ecco che nel momento in cui uno si tiene una parte della sua libertà di autore poi dopo si fa anche nuove domande per me essermi chiesta ma io posso avere questo social è una domanda nuova ecco che se non avessi partecipato alla fine a creative comm ora magari voi mi dite no non c'entra non si può fare però mi interessava questo di pensare in altro modo all'altro alle alternative che è un po' il motore del cambiamento è questo pensare a ciò che è altro bisogna prevedere esattamente che cos'è questo social DRM perché potrebbe essere interessante a un punto di vista di modello di business tuttavia appunto lo potete spiegare voi molto meglio di me ci sono delle limitazioni nelle licenze creative comm rispetto all'utilizzo di misure tecnologiche di protezione e il DRM che non è una categoria giuridica alla luce dei fatti molte volte implementa delle misure tecnologiche di protezione qualora questo social DRM implementasse queste misure tecnologiche di protezione in questo caso vi sarebbe una incompatibilità tra l'utilizzo di uno o delle creative commons beh ma l'editore ha comprato qualcosa in maniera esclusiva infatti l'editore se non ho capito male non ha rinunciato a fare un contratto di edizione ha fatto un contratto di edizione nel quale prendeva atto che l'opera sarebbe simultaneamente stata pubblicata con creative commons quindi si hanno due binari quello ordinario che potrebbe essere un ordinario contratto di edizione con ebook ma l'ebook allargato con facoltà di fare tre copie da distribuire questo un canale il canale ordinario un po' allargato e creative commons invece come facoltà parallela che l'autrice si è riservata è così è così quindi non si può utilizzare contemporaneamente sulla stessa copia sull'ebook che ha il social di rm su quella copia lì non può esserci la licenza creative commons però siccome la licenza creative commons non è esclusiva si possono far partire tanti canali quanti si vogliono con diversi tipi di licenze fermo restando che qualcuno può scaricarsi può prendersi il libro cartaceo fotocopiarlo farne un ebook concorrente quindi i meccanismi sono tanti e complicati però in teoria quella strada secondo me resta grazie a voi direi senza scoraggiare altre eventuali domande che sicuramente possono esserci alla fine della prossima presentazione a questo punto lascerei la parola al professore Antonio Bernardo che ci parla dell'uso di creative commons in un altro tipo di progetto nell'ambito di un progetto educativo più specificamente nella realizzazione di questo matematica EC3 nell'ambito del progetto matematicamente quindi lascio al professor Bernardo la introduzione e spiegazione di questo progetto vi ringrazio per avermi invitato chiaramente in questo contesto io semplicemente un po' racconto questa esperienza ho ben poco a che fare con tutte le discussioni teoriche che sono state fatte prima che comunque mi hanno molto interessato mi hanno colpito moltissimo e diciamo l'idea è stata quella un po' di produrre uno manuale di matematica per la scuola superiore così un po' in sostanza un po' un uovo di colombo l'idea che però difficilmente si riesce a realizzare non so se questo è l'unico caso che finora si è realizzato in Italia non lo so comunque sicuramente uno di questi esperimenti che è stato fatto l'uovo di colombo perché i libri scolastici manuali scolastici vengono scritti da insegnanti chi li fruisce sono gli insegnanti con gli studenti e chi invece diciamo non voglio dire ci specula ma tutto il giro del business che viene fatto è completamente esterno alla scuola quindi non si capisce perché libri che vengono prodotti all'interno della scuola poi devono far come dire circolare e arrivare agli studenti con dei costi non banali insomma allora così è partita questa idea anche sulla base di altre esperienze sulla base di esperienze di altre persone insomma alla fine poi di questi diritti d'autore tranne pochi pochi autori che hanno magari la fortuna di vendere chissà quanto poi per il resto si riesce a racimulare qualche 100 euro 500 1000 euro se uno gli va bene insomma poi ci deve pagare le tasse allora a quel punto uno si dice ma forse ho proprio sbagliato no? ma o anche quando si propone di aggiornare il libro oppure di fare qualche modifica o altro si accorge che il libro non è più suo cioè il libro è dell'editore ma posso cambiare no fai così fai con là no ti dico io chi deve cambiare no così con là quindi questa cosa mi è un po' un attimino scioccato ho detto forse è bene partire con altre basi insomma vediamo un attimino quindi il progetto delle 3C quindi perché abbiamo usato la licenza creative commons e perché soprattutto è scritto in forma collaborativa chiaramente questo dà una dimensione maggiore al libro perché è possibile utilizzare la partecipazione di molte più molte più persone di molti più insegnanti ma non solo insegnanti insomma anche studenti un po' tutti ora cercherò un po' di stare nei tempi perché magari ecco diciamo prima di tutto si presenta come un ebook e quando è nato questo progetto era già una novità parlare di un ebook all'interno della scuola oggi magari un pochettino questa cosa è un po' superata nel senso che magari per voi non risulta per niente una novità parlare di ebook però diciamo qui siamo un po' voluti rappresentare un cubo e un cilindro perché si parlava anche prima di database e siamo in un momento un po' di lotta per dirlo da matematico tra un cubo e un parallelepipedo perché il parallelepipedo è tipicamente un libro cartaceo quindi un blocco di foglie di carta a forma di parallelepipedo invece il database è tipicamente un sito internet dove le informazioni sono strutturate quindi siamo in effetti in un momento in cui si deve stabilire un po' chi vince insomma o se è internet quindi il mondo del web che si deve adottare al vecchio libro oppure viceversa il libro cerca di come dire di di fagogitare anche la rete quindi cercare di trasformare un sito internet in qualche cosa che assomigliava al libro vabbè il mondo degli ebook chiaramente molto complesso questo slide serve semplicemente per dirvi la quanto sia caotico e vorrei un po' giusto saltare perché mi pare che il tempo corre velocemente e diciamo nella scuola chiaramente gli ebook hanno un po' delle difficoltà perché non è ben chiaro nemmeno che cosa sia come deve essere usato un ebook se non che si aggiunge anche una dimensione politica ultimamente per cui i libri sono di destra gli ebook sono di sinistra qui non ci si capisce niente però crea solo confusione allora queste erano delle slide che avevo preso così in abbondanza ho detto se c'è tempo parlo di più allora io quindi ho cercato un po' di smontare il libro come si fa con un giocattolo adesso lo smontiamo vediamo pezzo pezzo che cosa c'è cosa non c'è quindi poi lo ricomponiamo in modo da dare uno di fornire uno strumento che sia effettivamente utile libero e soprattutto migliorabile che possa sopravvivere all'autore che possa sopravvivere a chi l'ha creato quindi diciamo queste sono un po' le componenti normalmente di un libro ma per un libro scolastico ovviamente c'è di mezzo il docente c'è di mezzo il dipartimento disciplinare il consiglio di classe il collegio tutta una serie di sovrastrutture che decidono se quello debba essere un libro di testo oppure no e niente quindi che cos'è un manuale scolastico cosa bisogna da che cosa si distingue un manuale rispetto a un libro di racconti un libro di altro non ultimo bisogna rispettare la normativa scolastica qui veramente è abbastanza caotico è abbastanza difficile per cui io all'inizio ho cercato di fare un oggetto che potesse cioè che fosse quanto più elastico possibile più polietrico possibile per cui io mi sono proposto come editore e una delle prime cose che ho fatto quando abbiamo cominciato a realizzare questo progetto è chiaramente di avvalermi della consulenza di Simona Liprandi che sta qui ho detto dammi spiegami che tipo di licenza devo usare per essere un pochettino garantito perché immaginavo che andavo a uno sconto piuttosto forte non banale con quello che è il mondo dell'editoria scolastica che insomma è fatto di soldi abbastanza grossi quindi queste sono un po' le possibilità che attualmente ha in effetti l'insegnante poi magari non le sa cioè l'insegnante può indicare diverse cose con le ultime circolari insomma può indicare sia materiali cartacei sia usare materiali che sono su internet però questo sta succedendo adesso quando abbiamo cominciato su questo progetto non era chiaro per cui io avevo un po' deciso di proteggerlo di bloccarlo quindi dare tutti gli elementi perché potesse essere usato in classe tanto per dire alcuni colleghi che mi hanno detto ma questo libro lo trovo cioè il mio segretario quando va a inserirlo nei libri consigliati lo trova nell'indice dei libri dell'associazione degli editori eccetera ecco quindi per fare tutte queste cose per essere sicuro che non ci fossero questi ostacoli quindi abbiamo cercato un po' di dare il codice ISBN di dare questa forma anche cartacea perché in alcune situazioni alcuni dirigenti esigono che ci sia consegnata a scuola la copia cartacea del libro quindi tutte queste serie di difficoltà brevemente vabbè questa è la forma diciamo un po' le tre idee quindi usare la licenza Creative Commons quella più aperta possibile cioè anche con la possibilità che altri colleghi possano adattare il libro alle proprie esigenze scolastiche quindi partire da questo possono modificarlo cambiare le definizioni cambiare altro e quindi purché venga rilasciato con la stessa con la stessa licenza poi quindi l'altra possibilità quindi l'altro tema è quello della modalità collaborativa in cui è scritto e infine la possibilità di distribuirlo a basso costo quindi l'obiettivo è di abbassare quanto più possibile il costo ovviamente il formato elettronico è a costo zero quindi il libro si può scaricare gratuitamente insomma dal sito ma non solo da matematicamente anche da altri siti che lo distribuiscono però mi sono anche posto l'obiettivo di abbattere i costi della copia cartacea qui ancora non sono andato abbastanza avanti però diciamo il modello che ho adottato è che siccome è rilasciato sotto la licenza Creative Commons la scuola può chiederlo direttamente in tipografia ponendosi come a sua volta editor del libro quindi ordina direttamente in tipografia le copie che gli sono necessarie oggi con la stampa digitale è possibile uno se in una scuola adotta una sola classe questo libro quindi ha solo 25 alunni può chiedere alla tipografia la stampa del libro e l'editore in qualche modo risulta la scuola quindi io vengo automaticamente saltato perché questo era anche importante per me per non fare così da collo di bottiglia come si dice da a strozzare questa cosa che tutte le copie dovessero passare da me e poi dal punto di vista fiscale non si capiva perché io giravo magari 10.000 copie in un anno senza guadagnarci un soldo in questa situazione sono riuscito un pochettino ad abbattere i costi diciamo oggi il libro di algebra per il primo anno costa 6 euro sono 400 pagine quindi mi sembra una cosa abbastanza dignitosa anche se quando il supermercato ho visto la bibbia a un euro ho detto cavolo se devo riuscire a fare anche il libro di matematica a un euro se si riesce a stampare la bibbia in un euro perché no ho qualche altro minuto va bene la licenza va bene vi ho detto quella che è usata ma insomma voi siete di gran lungo più esperti di me diciamo qui volevo un po' richiamare l'attenzione che nella scuola si producono tanti materiali che quindi sarebbe bene anche che le scuole fossero e gli studenti fossero a conoscenza delle varie licenze in modo che possano lasciare un po' di materiali liberi quindi che possano essere utilizzati diciamo mi interessa un po' ecco magari forse ho perso la slide che volevo commentare lo scenario d'uso ecco a furia di quella seguente eccola qui a furia di cliccare allora questo è uno scenario d'uso di un libro in questo formato diciamo multiforme politico quindi in classe io sono convinto che i tablet pc insomma si useranno a breve perché un tablet pc oggi costerà su 200 euro tutta la correzione come dire tutto il corredo di libri supera di gran lungo i 200 euro cioè se uno va a comprarsi dieci manuali scolastici per fare il primo anno dell'iceo supera di gran lungo il costo di un tablet no? per cui se ci fossero altri libri oltre a questo uno potrebbe con i soldi con cui compra tutti i libri comprarsi il computer che lo porta a scuola corredato da tutti i libri insomma quindi magari non averne solo uno da consultare averne più di uno il libro in formato elettronico può essere utilizzato con le lavagne le limmo non so per chi magari non è molto esperto sono le lavagne interattive multimediale si va sulla lavagna dove c'è proiettato il libro e si interagisce con il libro noi lasciamo anche il sorgente nel senso che abbiamo non solo la versione pdf ma anche la versione open office per cui l'insegnante con gli alunni può cambiare le definizioni correggere gli esercizi dire qui c'è un errore lo correggiamo oppure dire questa definizione a me non piace così preferisco che voi la sappiate in un altro modo questo è un atteggiamento tipico degli insegnanti non conciliere perfettamente avere un'idea perfettamente identica a quella dell'autore la cambiamo insieme quindi con questa modalità interattiva sicuramente lo studente è un po' più coinvolto quindi dopo di che c'è il libro standard che è questo qui dopo di che se sta usando quindi una modalità online quindi su di un computer può trova Pitagora dice vabbè su questo libro non c'è scritto niente di Pitagora perché volutamente non c'è però subito vado su wikipedia scrivo la voce Pitagora dico dove è nato che cosa ha fatto oppure trovo un altro autore un'altra cosa da aggiungere quindi quando sono davanti a uno strumento di questo tipo io posso poi esplorare il web quindi avere questa aggiungere tutte queste note queste a casa lo studente può riportarsi il suo piccolo computer con tutti i libri magari con le annotazioni che ha preso o usarlo su internet usare il libro farsi le fotocopie perché in prima pagina sul colofono abbiamo scritto questo libro può essere fotocopiato è una grande libertà perché ogni volta che uno trova il libro dice non si può fotocopiare mentre tutti gli studenti vorrebbero fotocopiarlo dopodiché per esempio gli esercizi possono essere fatti non sul quaderno ma direttamente sul formato di open office uno ce l'ha già il testo c'ha gli spazi bianchi e ci scrive l'esercizio e lo risolve quindi perché ripassare sul quaderno riscrivere ricopiare tutte cose che sono un po' noiose per i ragazzi quindi questo tipo di libro avrebbe questa possibilità in più quindi di svolgere direttamente gli esercizi sul libro dopodiché lo studio collaborativo che non è da sottovalutare anzi magari incuriosisce di più i ragazzi perché adesso ci scambiamo i compiti io faccio l'esercizio numero uno tu fai il due attraverso la rete io ti passo il due tu mi dai l'uno ce li guardiamo eccetera e quindi se il file se l'esercizio è nel formato elettronico questa cosa si può fare ma ovviamente non va visto solo l'aspetto così negativo perché chiaramente i ragazzi che si copiano gli esercizi a casa e compiti a casa non è una novità per nessuno però diciamo anche a copiare si impara anche a discutere fare l'esercizio c'è la possibilità di condividerlo attraverso internet e stando a casa senza nemmeno telefonarsi si può fare lo stesso esercizio in due persone e quindi anche interagire con sistemi di messaggi istantanei insomma un'ultima slide velocemente che mi interessa un po' vediamo un po' ecco questo qui cioè la differenza tra il software open source e un libro diciamo in questo caso un manuale di scienza creative commons e diciamo c'è questa differenza nell'usa cioè che le copie diciamo di word di windows vengono acquistate dalle scuole o dalle aziende ma poi il privato non lo sente il peso del costo perché usa quasi sempre i software craccati nessuno va a casa sua a dire ma non c'è la licenza per cui questa cosa allo studente o al genitore o all'utente non pesa perché dice vabbè tanto io ce l'ho gratis non mi costa niente sul libro invece accade proprio l'opposto e cioè le case editrici stanno lì a rimpizzare gli insegnanti con copie e copie e copie gratuite di libri per cui l'insegnante ce l'ha gratis in realtà e l'insegnante è quello che decide scegliere poi chi paga tutto e chi acquista cioè quello che sta alla fine della catena cioè è un percorso esattamente opposto quindi chi decide il libro ce l'ha gratis magari ce l'ha anche gratis per il figlio gratis per gli amici no e invece poi chi l'acquista lo deve pagare con quest'ultima provocazione chiudo ringrazio ringrazio moltissimo Antonio Bernardo e come nel caso di Carlotta mi smetti capua hanno incominciato dicendo che non c'entravano molto con quello di cui stavamo parlando mi sembra che ci siamo resi conto tutti che in realtà questo c'entra e se sembrava che non c'entrasse è colpa nostra perché prima abbiamo parlato troppo di di litte non abbastanza di condivisione e di creazione condivisa e di progetti in cui ci si mette nei panni di quelli che fanno parte del network dei riutilizzatori della comunità degli utenti che possono diventare a loro volta creatori e partner nella creazione quindi grazie mille per questa presentazione per tutte e due le presentazioni e spero che ci siano delle domande e se no ne ho qualcuna anche io stesso ma non posso approfittare più di troppo del mio ruolo grazie una domanda per il professore ma ci sono già stati dei momenti in cui nel progetto avete costituità da parte domanda per il professore ci sono stati già degli attacchi da parte di colleghi o di editori nei tuoi confronti dopo questa scelta in particolare credo che ci sia un meccanismo un po' simile a quello dei medici di base che hanno tutto un sistema di regalini di incentivi ai professori da parte degli editori affinché adottino certi libri di testo piuttosto che altri lo volevo sapere se c'è stato qualche collega che aveva storto il naso su questa scelta e anche anche a Carlotta se c'è stato qualche altro collega autore scrittore che ti ha fatto delle battute dicendo ah così facendo vedrai che ci rovinerai il nostro modello economico beh nel mio caso appunto non essendo ancora uscito il libro uscirà a febbraio non è chiaro che sarà in creative commons appunto finché poi non vediamo sta paginetta io non dormo serena perché mi telefonano tutti i giorni per sapere se è arrivata la paginetta creative commons no tanta ostilità sì ma perché avevo preso dei ragazzi afghani questa sì da tutti amici colleghi vicini di casa no su creative commons no magari rispondo da qualcosa e ostilità da parte dei colleghi no però indifferenza che esattamente la stessa cosa no perché c'è tanta indifferenza ecco tant'è che nella mia scuola non l'abbiamo adottato infatti un giornalista che mi ha intervistato diceva bella pubblicità se non l'avete adottato nemmeno nella tua scuola ha detto vabbè preferito così per non forzare ecco una collega forse sbagliando ha detto che ci sarebbe stato un conflitto di interesse non ho ben capito nemmeno io che cosa voleva dire visto che parliamo di un libro gratuito adottato da me nella mia scuola cosa ho detto vabbè se devo andare anche a pagare gli avvocati per questa cosa ho detto lasciamo stare da parte degli editori penso che il progetto sia ancora un po' piccolo poco conosciuto io volevo giusto darvi qualche numero comunque abbiamo stampato la tipografia ha stampato mille copie che ha distribuito quindi perché le hanno chieste le scuole quindi in una decina di scuole in tutta l'età è già stato adottato quest'anno quindi sicuramente il progetto sarà più noto e un po' più maturo probabilmente magari ci saranno più persone così racconto che mi è arrivata un giorno una mail di un editore abbastanza noto nella scuola che ha scritto è una porcata sono rimasto un pochettino allibito gli ho risposto ma perché poi lui mi ha telefonato dice no scusa mi ho sbagliato non volevo scrivere a te volevo scrivere a un altro però mi ha detto che non ha porcato quindi probabilmente ha sbagliato effettivamente io volevo chiedere una cosa che non ho capito prima il diritto sui generis che cos'è esattamente? il diritto sulle banche di dati in Europa è un po' complicato non è soltanto il diritto d'autore tradizionale che dovrebbe tutelare la creazione di una banca di dati originale perché ha una struttura una scelta dei campi eccetera che è originale il diritto sui generis è un diritto in più che tutela anche l'investimento che il costitutore di questa banca di dati fa per creare la banca di dati stessa molte banche di dati non sono creative cioè non c'è nessun non solo non c'è un nestro artistico non c'è neanche una grande possibilità di fare scelte arbitrarie mi metto lì mi sbatto un sacco e ho la banca di dati quindi è un lavoro tra virgolette meccanico ma che costa fatica e per proteggere questo diritto al posto del diritto d'autore che non serve a questo scopo è stato creato questo diritto sui generis appunto un diritto apposta di un genere particolare per proteggere questo tipo di investimento e essendo un diritto solo europeo sostanzialmente ha creato qualche problema e la necessità di una riflessione di creative commons a livello internazionale per come gestirlo se non ci sono altre domande direi che possiamo passare alle conclusioni del professor Ricolfi anche perché siamo qua di fuori tempo massimo e ringraziamo ancora una volta il professor Bernardo e Carlotta mi smetti capo grazie 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 grazie